a partire queste slide in modo tale che poi io possa toccare punto per punto e poi giustamente ognuno di voi si chiede di fare qualche domanda. Io preferirei che fosse una chiacchierata più che un'esposizione perché credo appunto che come condivisione sia la forma migliore, diciamo. Quindi se riusciamo a far partire... Intanto faccio una piccola presentazione su me stesso, ma molto breve. Io sono genovese, lavoro da... Questo è il secondo anno che lavoro nel settore di giovani della Roma e sia l'anno scorso che quest'anno mi sono occupato della squadra Under-17. Insieme a me ci sarà il professor Tozzo Nazareno che è il preparatore atletico della mia categoria. Una cosa vorrei intanto premere che io farò una panoramica generale su quelli che sono i principi che guidano, le linee guida appunto della S-Roma per quanto riguarda le tre categorie, diciamo, che ho citato. Però farò più riferimento ovviamente a quello che è il mio lavoro con la categoria di riferimento. Mentre invece il professor Tozzo magari farà un'analisi un pochino più specifica per quanto riguarda la sua competenza anche per le categorie 15 e 16 avendole anche fatte in passato. Questa è la prima cosa che vorrei far vedere. Non ha preso la condivisione, si vede tutto nero al momento. Tu hai già condiviso? Tu stai vedendo la tua presentazione? Sì, mi dice che... Anch'io non vedo niente. Mi dice che hai iniziato a fare la condivisione però non si vede, si vede la schermata nera. Sì, anche da me non si vede. Sì, ragazzi, ci penso io. Non vi preoccupate, non intervenete tutti. Riprovo, diciamo così. Fai stop a share screen e poi riabilito. Allora, riprovo. Sì, esatto. Sì, sì. Si dovrebbe partire, vediamo. Si vede? No, al momento no. Allora. Un attimo di pazienza, eh? Succede. Male che vada, provo a condividerlo io. Allora, un attimino. Sì, se no, non c'è problema. Se no vado, diciamo, senza il supporto della presentazione. Però... No, no, la facciamo vedere. Se riusciamo... Tranquillo. Senza suggerire. A fuori, a fuori. Allora, apposta qui! No, no. Bene. Allora, fai stop a share. Togli la tua che provo io. Ok. Ok. Si vede? Anche a me si vede tutto nero. Adesso si vede, mi dicono. Io continuo a non vedere. Ok. Allora, si vede che è un problema? Adesso sì. Adesso sì. Ok. Allora, tu parla e io vado io avanti con la presentazione. Ok? Sì, sì, sì. Magari ti dico io quando passare alla slide successiva. Vai. Ok? Vai. Quindi, perfetto, dai. Allora, passa pure alla slide successiva, Alessandro. La vedi? Io la vedo. Io continuo a vedere la schermata con i nomi. Quella con il calciatore? Alessandro. Sì. Sì. Mi sa che la vedo. Io non vedo nulla, cioè vedo sulla schermata la prima. Leggo che qualcuno non senti più. Scrivetevi in chat, per favore, se vedete il giocatore. Ok. Ale? Sì. Vedono tutti, Fabrizio. Mi sa che è un problema tuo di ritardo. Tu vai avanti con la presentazione, con la tua presentazione. Io procedo con le slide. L'importante è che, insomma, si sente? La voce si sente? Sì, sì. Sì, sì. Al centro di tutto il lavoro del settore giovanile della Roma c'è il giocatore. Cioè, tutto quello che si fa, partendo dai piccoli fino ad arrivare alla primavera, soprattutto, ma all'Under 18, chiaramente al centro c'è, ci deve essere solo e unicamente il ragazzo. perché poi, indipendentemente dai risultati che si possono conseguire, diciamo, a livello collettivo, a livello di squadra, in tutto il settore, chiaramente chi farà poi il percorso, chi farà, diciamo, chi raggiungerà l'obiettivo non è la squadra, ma è il ragazzo, il giocatore. Quindi, è ovvio che tutto quello che le persone che, diciamo, che seguono i ragazzi devono avere in mente è che tutto lo sforzo, tutte le energie vanno indirizzate nella crescita del solo giocatore. Ovviamente, poi, lo sappiamo tutti, sappiamo bene che sfortunatamente questo percorso non si concluderà per tutti con una carriera, diciamo, professionistica, però questi devono essere i nostri sforzi e tutto quello che noi facciamo ruota intorno al giocatore. Ci sono delle aree imprecise, che adesso andrò a, diciamo, a toccare punto per punto, che costruiscono, diciamo, la struttura che serve per far sì che il ragazzo trovi il proprio percorso, diciamo, che lo porterà poi a, speriamo, ad essere un calciatore a livello professionistico. Quindi, il primo è il modello di gioco. Se vuoi passare oltre Alessandro, così li vediamo tutti, e poi, quindi, il modello di gioco è il principale strumento. Se vuoi passare a quello successivo, i principi di gioco, i principi di gioco sono, diciamo, gli strumenti sono le caratteristiche che costituiscono poi il modello di gioco. Quindi, poi abbiamo, se vuoi passare oltre, e poi le rivediamo tutte punto per punto, gli strumenti tecnici, poi vai pure avanti, che li vediamo insieme. Le qualità cognitive, e io aggiungo poi anche le caratteristiche, diciamo, emozionali e caratteriali. Poi abbiamo gli strumenti didattici, che vedremo poi punto per punto. E poi ho messo come ultima, diciamo, come ultimo punto le capacità condizionali, ma non sono ultime per importanza, ma soprattutto, soltanto perché, diciamo, in un ordine, chiamiamolo logico, poi sarà l'ultimo punto, poi toccherà chiarire, toccherà, diciamo, approfondire al prossimo passo. Tornando all'inizio, diciamo, tornando alla prossima, passando alla prossima slide, punto per punto che cosa intendiamo per, diciamo, andare ad approfondire queste aree. Quindi passa pure oltre, passa pure quella dopo, Alessandro. Ok, il modello di gioco, se vuoi andare ancora avanti, così vediamo di che cosa andiamo a... Ok. Allora, il modello di gioco ormai ne sentiamo parlare, diciamo, da ogni allenatore. Sappiamo che il modello di gioco non è semplicemente un sistema di gioco o un modulo di gioco, ma per quanto mi riguarda e per quanto riguarda, diciamo, il nostro settore giovanile, intendiamo come un modello di gioco quello che, appunto, ho scritto nella slide, cioè l'insieme dei comportamenti individuali e collettivi da adottare nelle diverse fasi di gioco. E' specifico che il modello di gioco deve essere chiaro, riconoscibile e stimolante, in modo che i ragazzi lo percepiscano come ambiente nel quale sviluppare il proprio percorso di apprendimento. Che cosa voglio dire? Che intanto, beh, la prima parte, il modello di gioco deve essere chiaro perché tutti i ragazzi devono in qualche maniera sapere esattamente come muoversi dentro questo sistema, dentro questo modello di gioco. e deve essere riconoscibile, e questa parola, la parola riconoscibile, è esattamente quella che poi si lega, a mio modo di vedere, al tipo di proposte di allenamento che noi mettiamo in atto, perché comunque nel momento in cui, nel momento della prestazione, quindi della realtà del gioco, i ragazzi devono avere gli strumenti per riconoscere queste situazioni, questo modello, e poter agire chiaramente in maniera coerente. Stimolante perché? Perché io credo che ogni modello di gioco debba avere una finalità, un piego. Cioè, se parliamo di adulti, il modello di gioco deve avere chiaramente come finalità quello di poter avere un'efficacia, un'efficacia più possibile orientata comunque a un risultato, no? E chiaramente questo è banale da dire, ma è così. Mentre invece il modello di gioco in un settore giovanile deve avere una valenza e una finalità differente, che è quella che poi è specificata nell'ultima parte di questa frase, cioè deve costituire, secondo me, un ambiente nel quale ogni ragazzo sviluppi il proprio percorso di apprendimento. Stimolante deve esserlo sulla base poi, diciamo, in relazione a diversi fattori. Quindi, principalmente per quanto riguarda la Roma, deve legarsi anche a un discorso, diciamo, di tradizione o comunque di mentalità e di filosofia che sta alla base dell'idea della società. Per quanto riguarda la Roma, questo è un aspetto che mi è sempre stato, come dire, sottolineato, soprattutto quando io sono entrato a far parte di questo settore giovanile, cioè il modello di gioco della Roma deve essere un modello propositivo, deve essere un modello che tende al dominio della partita. Questo perché io sono d'accordo, perché comunque vuoi o non vuoi la fortuna di allenare dei ragazzi che hanno comunque una qualità importante, deve essere la base per costruire questo modello di gioco, che deve essere stimolante, appunto, per i ragazzi. Cioè, avendo ragazzi di qualità alta, loro devono, a mio parere, trovare un ambiente, e quando parlo di ambiente, parlo di ambiente, diciamo, ambiente di gioco, non tanto di ambiente di allenamento, di ambiente, diciamo, struttura, ma proprio il gioco per loro, la realtà del gioco, deve essere tale per cui loro sentano di poter esprimere questa qualità. E come lo possiamo fare? Diciamo, attraverso questi punti, no? Quindi, il modello di gioco nostro, diciamo, del settore giovanile, parliamo sempre di queste tre categorie, a delle aree specifiche, dei punti specifichi. Il primo, come ho indicato, è l'occupazione razionale dello spazio di gioco. La ricerca del dominio dentro il campo, la verticalità del possesso nei tempi di gioco. Cosa voglio dire? I ragazzi imparano, diciamo, la prima cosa che apprendono per poter esprimere una tipologia di calcio, che è quella di cui si parlava prima, cioè del dominio del gioco, è saper occupare il campo in maniera razionale. La ricerca del dominio dentro il campo, io credo che, soprattutto nel calcio moderno, le squadre che riescono a dominare il gioco, cioè a essere efficaci, sfruttando quelle che sono le, diciamo, delle zone di campo, e soprattutto quella centrale, in senso longitudinale, sono le squadre che poi riescono a dominare maggiormente il gioco. Una volta si diceva, no? Le squadre forti vincono a centrocampo, dominano il gioco a centrocampo. Io non credo che al giorno d'oggi sia molto, come dire, attuale questa affermazione, al contrario, io credo che lo sia se intendiamo lo spazio di gioco in maniera longitudinale. cioè le squadre che riescono, appunto, a poter creare delle, diciamo, dinamiche di gioco che prevedano l'utilizzo della parte centrale, in senso longitudinale del campo, siano le squadre che poi hanno la maggior possibilità, la maggior capacità di creare delle condizioni per essere dominanti. A questo si lega, a mio avviso, la verticalità del possesso. Cosa intendo per questo? Il possesso palla, si parla molto, no? Parliamo molto di squadre che dominano il possesso della palla per lunghi tratti del gioco, senza volte per questo essere poi efficace. Io credo che la chiave per avere un possesso di palla efficace sia dargli una, diciamo, una connotazione verticale. Quando parlo di verticalità del possesso, non intendo dire il classico palla lunga e andare a giocare sulle seconde palle, ma tutt'altro, pur mantenendo sempre un dominio della palla e cercare di creare le condizioni partendo da dietro come costruzione, per arrivare all'obiettivo, credo che farlo attraverso un possesso palla che fa da poco per linee orizzontali, ma sfrutti molto, invece questa verticalità sia un elemento altrettanto importante. Faccio un passo indietro dicendo appunto che tra le caratteristiche di questo modello di gioco l'utilizzo, la ricerca continua della costruzione dal portiere è una delle chiavi fondamentali del nostro modo di giocare, del nostro modo di intendere la costruzione sia per la mia categoria ma anche per le categorie sotto, quindi la 15 e la 16. Quindi tutto quello che io esprimo diciamo come concetti per quanto riguarda la mia squadra sono concetti che si possono tranquillamente applicare alle due categorie sotto, quindi all'under 16 e all'under 15. Voglio poi, farò dopo un accenno a questo, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei giocatori nelle tre categorie, cioè la possibilità che i ragazzi della 16 salgano con la 17 conoscendo esattamente e potendo interpretare esattamente gli stessi principi, proprio perché questa è una linea guida, è una chiave nella gestione, nella metodologia della Roma. I tempi di gioco. Per tempi di gioco noi, ma comunque questo credo ormai sia una definizione piuttosto universale, intendiamo la capacità che ha il ragazzo di interpretare il gioco e di interpretare i tempi del gioco a seconda delle situazioni. una cosa su cui io personalmente lavoro molto è il cercare di far capire al ragazzo o comunque lui apprenda quali sono le modalità di, diciamo, i tempi di gioco adatti in ogni situazione. A questo proposito, se vai avanti con la slide, Alessandro, se passi a quella successiva, ok, ma qui parliamo quello che, diciamo, i precedenti punti ovviamente si riferivano alla fase di possesso. Per quanto riguarda la fase di non possesso, fondamentalmente ci sono due, diciamo, due concetti molto importanti che fanno sempre parte di questo modello di gioco in fase di non possesso. Quindi una squadra della Roma, del settore giovanile, farà sempre della pressione alta sulla costruzione avversaria una delle sue caratteristiche. Difficilmente sia, diciamo, l'Andre 17 ma anche le altre due categorie sono squadre che, diciamo, si abbassano e aspettano che il quadro avversaria costruisca per poi dare una pressione più bassa. Come, diciamo, indicazione della società e questa è una di quelle cose che ritengo chiaramente coerenti con quella che è poi l'idea è quella di portare subito pressione sulla costruzione degli avversari e cercare di recuperare ovviamente la palla nella zona di campo più alta possibile. Altro punto è l'occupazione della zona centrale del campo. Anche qua, diciamo, in una situazione di difesa o comunque di contrapposizione un pochino più bassa, diciamo, nella zona di campo, l'indicazione o comunque l'obiettivo è quello di presidiare soprattutto la zona centrale del campo. Anche qui parlo in senso longitudinale. Quindi questo non significa che la squadra abbassi sulla metà campo ma l'attenza e l'obiettivo è sempre quello di forzare gli avversari a giocare delle palle diciamo orizzontali. Quindi esattamente il contrario di quello che vogliamo fare noi in possesso. se è vero che in fase di possesso noi vogliamo creare diciamo delle dinamiche delle combinazioni che sfruttino la verticalità del campo in zona centrale automaticamente noi vogliamo che in fase di non possesso gli avversari non trovino questa possibilità e siano costretti a giocare per vie laterali. Guardiola ha detto una cosa molto interessante una volta per riassumere questo concetto dicendo che la linea laterale è il miglior difensore al mondo e quindi di conseguenza il poter indirizzare il gioco degli avversari lateralmente è una delle cose che noi vogliamo fare. Per quanto riguarda le transizioni anche qui diciamo le due aree i due punti fondamentali che noi vogliamo che i nostri ragazzi riconoscano e chiaramente interpretino in una maniera migliore sono questi due appunto la riaggressione immediata per riconquistare palla quindi anche qua chiaramente più alto lo si fa diciamo meglio è e il consolidamento del possesso o la ripartenza questo è un punto interrogativo perché ovviamente questa è una delle chiavi di lettura che i ragazzi devono imparare a interpretare non è sempre possibile non è sempre vero che sia più utile consolidare il possesso una volta recuperata palla o ripartire o comunque riattaccare immediatamente questa è una di quelle cose che attraverso poi diciamo il lavoro in situazione che poi vedremo successivamente i ragazzi imparano a interpretare in maniera individuale e collettiva ecco questa è ho messo questa schematizzazione del diciamo del campo per anticipare un po' quello che comunque anche sottolineare quello che diciamo prima anche in relazione ai tempi di gioco alla Roma dividiamo diciamo in maniera come dire per codificare la zona 1 la zona 2 e la zona 3 quindi per zona 1 ovviamente si intende il terzo più più basso del campo quello di costruzione la zona 2 noi definiamo anche la zona di preparazione all'attacco e la zona 3 è la zona di finalizzazione questo è diciamo un concetto che i ragazzi apprendono comunque abbastanza in maniera abbastanza rapida all'inizio della stagione perché tutto quello che poi noi sviluppiamo in fase di allenamento ha sempre un riferimento alle tre zone in modo tale che i ragazzi una volta che hanno acquisito il concetto diciamo di zona 1 zona 2 zona 3 sanno o comunque apprendono comportamenti che sono da diciamo interpretare a seconda della zona di campo in cui ci si trovi faccio un esempio per i tempi di gioco io utilizzo molto uno strumento di allenamento che io chiamo la partita tempi di gioco e sono partite diciamo a tema di allenamento una classica partita a tema dove l'azione di gioco è suddiviso in tre parti se è tutto il campo tanto meglio se è un campo ovviamente se abbiamo uno spazio ridotto la suddivisione delle tre zone viene fatta e ai ragazzi do una regola cioè in zona 1 si utilizza un tempo di gioco che sono i tre tocchi per esempio in zona 2 il gioco è libero in zona 3 si utilizzano fabrizio sei sparito un attimo fabrizio mister ti abbiamo perso ecco mi senti adesso si adesso si ah ok boh era cascata la connessione mi vedi mi senti c'è il campo tutto ok tutto ok vai fino a dove mi hai sentito la zona 1 stavi raccontando era la finalizzazione ah la zona sì zona 1 è la zona di costruzione cosiddetta la zona 2 è una zona di preparazione all'attacco come la definiamo e la zona 3 è la zona di finalizzazione dicevo che questa è una è una suddivisione comunque abbastanza come dire universale come no ci siamo eravamo eravamo alla partitella tema ah ok perfetto sì sì benissimo la partita tema diciamo facevo un accenno a questa partita tema con le tre zone perché e facevo c'è un riferimento alle regole quindi io per dire do tre tocchi in zona 1 gioco libero in zona 2 e due tocchi in zona 3 per quale motivo perché ragazzi voglio che i ragazzi capiscano che ad esempio in zona 2 gioco libero perché io ritengo che soprattutto nel calcio moderno la possibilità di di riuscire a coprire più campo possibile in conduzione qualora ci sia lo spazio lo lo si debba fare lo si debba ricercare e la zona diciamo centrale del campo in questa fase secondo me in questa fase storica dei sistemi di gioco comunque delle varie filosofie di gioco è quella in cui se si riesce a saltare l'uomo e a creare la famosa super realtà numerica che tutti vogliamo creare nella zona centrale del campo è o non solo si hanno più possibilità ma è la zona in cui si possono creare maggiori diciamo possibilità appunto mentre invece zona 3 ormai tutte le squadre comunque tutti tutti più o meno i sistemi di gioco riuscire a trovare spazi nell'ultimo terzo di campo che prevedano l'utilizzo comunque dell'uno contro uno che chiaramente ovviamente è un aspetto importante ma quelle sono in quella zona di campo in particolare voglio che i ragazzi si abituino a cercare di andare dentro con combinazioni veloci quindi riuscire a sfruttare le giocate più in velocità quindi combinazioni veloci uno due e quant'altro ma questo diciamo è soltanto un accenno un esempio se vogliamo se vogliamo passare oltre a quella successiva passiamo ai principi di gioco ok quindi diciamo il modello di gioco non può prescindere ovviamente dall'utilizzo dei principi per poterlo costruire in maniera logica e coerente con quello che si vuole fare anche qua indipendentemente dal sistema di gioco e qui faccio un riferimento un attimino a un aspetto fino allo scorso anno le tre categorie quindi 15 16 e 17 ma anche sotto per quanto io so l'idea era di giocare tutti con lo stesso sistema di gioco il 433 questo diciamo non è un'imposizione o perché il 433 sia ritenuto un sistema di gioco migliore di altri ma diciamo era una sorta di linea guida legata soprattutto alla ricerca secondo me dello scouting cioè si ricercavano giocatori che avessero determinate caratteristiche e quelle caratteristiche si sposavano bene con questo sistema di gioco quest'anno diciamo non è non è esattamente così nel senso che c'è un pochino più di libertà però al di là del sistema del sistema di gioco prescelto io credo che quello che i ragazzi devono far proprio e devono acquisire sia la lettura degli spazi di ricezione e lo smarcamento preventivo cosa voglio dire in qualsiasi sia il sistema di gioco proprio nostro e quello degli avversari ormai io sono convinto che la la capacità di una squadra di essere dominante sia la sua misura diciamo proporzionale alla capacità che hanno i giocatori di trovare smarcamenti utili cioè alla capacità che hanno di leggere gli spazi di ricevere la palla in quegli spazi e ovviamente poi di di poter utilizzare questo possesso per arrivare poi all'obiettivo lo smarcamento preventivo è un concetto che sembra banale ma in realtà poi tanto banale non è anche qua faccio un riferimento un po' al passato a quando giocavo anch'io cioè lo smarcarsi veniva sempre visto come un concetto un'azione da compiere nel momento in cui un compagno in possesso palla ti guarda tu ti smarchi e ricevi palla io credo che adesso smarcarsi in maniera preventiva cioè con un tempo in anticipo rispetto a quello che può essere lo sviluppo del gioco sia poi la chiave e questo secondo me va si lega a un concetto cioè che è un concetto diciamo legato all'essere umano non solo al giocatore di calcio ma all'attrazione che ogni essere umano ha nei confronti della palla quindi io quello che tendo sempre a spiegare ai ragazzi che non hanno in quel momento il possesso quando il proprio compagno è in possesso palla dovrebbero o comunque devono imparare a cercare uno spazio appunto di smarcamento uno spazio di ricezione che sia anche con uno o due tempi di anticipo rispetto a quello che possono fare nel momento in cui il compagno li guarda e non è un concetto semplice per i ragazzi perché i ragazzi ovviamente tendono a muoversi quando il compagno che è in grado di passare la loro palla ne entra in possesso tanto più diventano bravi a mio parere a ricercare una posizione diciamo di ricezione come la chiamo io con un tempo d'anticipo tanto più sarà semplice poi sviluppare un possesso che abbia delle caratteristiche efficaci il passaggio sulla figura questo è un altro concetto fondamentale io dico ai ragazzi che e ci esercitiamo in questo senso ovviamente che nella fase di possesso e di preparazione all'attacco il passaggio va fatto sempre sulla figura cioè il passaggio nello spazio deve essere un passaggio che chiamiamolo come dire definitivo comunque deve essere il passaggio fatto soprattutto in zona 3 per mandare in porto per mandare a un cross un compagno cioè deve essere un passaggio che precede una conclusione dell'azione nel momento in cui si mantiene il possesso la capacità deve essere quella di lavorare sul passaggio alla figura del compagno un altro aspetto è la densità in zona palla dopo la riconquista anche qui questo è un altro di quei concetti sui quali io lavoro molto nel momento in cui la nostra squadra rientra in possesso di palla dopo una riconquista i giocatori devono avere la capacità di ricreare delle condizioni di superiorità numerica immediate nella zona della palla in modo tale che chi ha recuperato la palla abbia subito delle possibilità di mantenimento del possesso proprio per non subire quello che poi è un concetto abbastanza moderno di non subire una contro una contro transizione chiamiamola così e a quel punto la conquista della palla può diventare un'occasione per gli avversari invece di trovarti diciamo scoperto di trovarti sbilanciato e quindi questo è un altro di quei concetti su cui lavoriamo molto dopo se avremo la possibilità diciamo se la connessione non ci non ci creerà troppi problemi volevo diciamo far vedere qualche piccolo video relativo sia questa situazione di cui parlo e anche diciamo degli allenamenti e delle modalità che utilizzo per lavorare su questi aspetti un altro aspetto importante è il concetto del non ruolo questa è una delle caratteristiche che fanno parte della metodologia Roma e che costituiscono secondo me è una delle chiavi anche importanti per l'apprendimento e lo sviluppo dei ragazzi quando si parla del concetto di non ruolo non lo si definisce come l'idea di insegnare ai ragazzi di giocare in ogni ruolo in diversi ruoli questo no perché ormai diciamo sono categorie nelle quali la specificità del ruolo diventa abbastanza determinante comunque predominante ma il concetto di non ruolo è la capacità che i nostri ragazzi i nostri giocatori hanno in determinati momenti della partita qualora si verificasse la situazione in cui si debbano come dire trovare in una situazione che è diversa da quello che è il loro ruolo abituale sappiano esattamente sappiano quali comportamenti mettere in atto in quella fase specifica della partita il che non significa che noi vogliamo appunto un giocatore che è una punta centrale trasformarlo in una mezzala o quant'altro ma semplicemente se la partita se la situazione della partita lo richiede i giocatori hanno la capacità di interpretare in quel momento specifico il proprio ruolo in base alla situazione alle richieste di quella situazione allora purtroppo purtroppo vedo che le immagini i video sono non hanno la fluidità che richiederebbe per andare diciamo per andare ad approfondire questo concetto qui questo video se riesci a tornare un attimino indietro lo rifacciamo partire Alessandro dall'inizio era semplicemente ecco magari se stoppi un attimo così ok questo era un piccolo video di una sono 20 secondi di una partita presa a caso diciamo del della squadra Ander 17 dei 2002 dell'anno scorso era giusto per perché andavo diciamo a approfondire il concetto dello smarcamento preventivo purtroppo questo video non ha una qualità non è venuto bene però magari anticipo se chi volesse poi magari in seguito vedere questi video in maniera precisa io non ho problemi li posso mandare in questo video si vedeva chiaramente qual è il concetto di smarcamento preventivo perché si vedono i ragazzi muoversi diciamo e cercare uno spazio di ricezione come lo definisco io prima diciamo con uno o due tempi anzi due o tre tempi di anticipo rispetto a quello che è il compagno in possesso palla purtroppo non è oggi non ci dice bene con i video quindi Alessandro se vuoi lasciarlo andare avanti poi di questo magari parlerò con eventualmente con chi avrà vorrà magari approfondire il discorso e poi gli manderò il video anche in maniera individuale non c'è problema vai pure avanti che magari comunque io l'ho visto l'ho visto bene il video allora poi magari lo racconti tu se vuoi eh non so se gli altri l'hanno visto bene come te speriamo magari qualcuno ti darà ecco questo invece stop se vuoi fermare un attimo ecco ferma un attimino di qua così spiego questo è un altro video sempre di un'altra partita sì infatti qualcuno scrive si vede a scatti sì purtroppo sì allora questo questo video invece in particolare si riferisce al concetto che a quel punto che dicevo prima cioè della di quando dopo la riconquista c'è una diciamo una densità di giocatori nella zona di riconquista e questa era un piccolo diciamo una situazione in cui si vedeva bene e se vuoi andare avanti magari stoppi sul nel momento in cui si verifica la situazione quindi c'è una riconquista noi siamo la squadra diciamo rossa ecco in questa fase si vedono i giocatori i miei giocatori che immediatamente si portano a supporto del compagno che ha recuperato palla che altrimenti serve sotto pressione vai pure avanti fai scorrere che magari anche si fida da scatti e chiaramente lì si si diciamo si sviluppa una fase di possesso nella zona in cui si è verificata la riconquista chiaramente giocando la palla velocemente finché non si trova poi l'uscita dal pressing degli avversari anche qua sarebbe stato interessante riuscire a vedere la dinamica in maniera in maniera fluida ma ripeto per chi avesse piacere poi posso inviare direttamente i video e poi anche avere una diciamo una una chiacchiera in maniera individuale poi se vai alla successiva volevo far vedere una piccola clip che è relativa al concetto che dicevo prima del non ruolo ecco per esempio se stop un attimo così spiego volevo dare un attimino la la premessa se puoi tornare un secondo indietro all'inizio del video Alessandro ecco questo è uno sviluppo una partita diciamo recente è uno sviluppo da corner quindi corner diciamo la squadra avversaria riesce a venire fuori da una fase diciamo difensiva da palla inattiva la palla torna nella nostra metà campo il giocatore che vedete che rincorre la palla è un esterno alto di attacco però se vai avanti quindi riesce recupera palla dopo aver recuperato palla si trova in una zona di campo ecco passa la palla diciamo fa un retro passaggio al portiere e fa un movimento che chiaramente anche qua purtroppo si vede poco dal video fa un movimento che è tipico di un difensore centrale per il nostro modo di giocare cioè dopo aver scaricato palla va a smarcarsi quindi fa uno sprint e va a smarcarsi diciamo in maniera ancora più più bassa verso la zona diciamo quasi verso la bandierina proprio come farebbe come fanno i nostri difensori centrali dopo un retro passaggio al portiere e questo è il concetto di non ruolo che intendevo prima quindi lui in questo momento si comporta esattamente come un difensore centrale e lo fa in maniera naturale questo perché perché e qui faccio una come dire già un passo in piccolo passo in avanti rispetto a quello che poi voglio accennare sulla metodologia il fatto di lavorare sempre e quando dico sempre è sempre in modo tale che la situazione di gioco venga vissuta dai ragazzi in maniera continuativa e in maniera reale fa sì che anche i giocatori che non sono diciamo che i giocatori di ruoli diversi ormai abbiano acquisito i comportamenti dei propri compagni in posizioni diverse e questo secondo me è un obiettivo che possiamo ottenere non facilmente ma nel senso dobbiamo come allenatori di settore giovanile tendere a ottenere e proprio lo possiamo fare però soltanto se lavoriamo in un certo modo che poi dopo comincerò cioè voglio parlare anche del come arriviamo ecco per cui qui iniziamo ad attrattare diciamo che cosa come praticamente lavorare sui concetti che poi costruiscono quel modello di gioco di cui parlavo prima a cui facevo riferimento allora io qui non ho minimamente accennato al concetto di lavoro analitico ovviamente io so che ci sono diverse modi di pensare diverse filosofie di pensiero io credo in una filosofia diciamo di pensiero che soprattutto nelle categorie a cui facciamo riferimento ecco faccio una premessa tutto quello che io faccio nell'under 17 se allenassi domani l'under 15 farei esattamente le stesse cose quindi questo lo voglio dire subito quindi l'aspetto analitico diciamo nelle proposte di allenamento diciamo per quanto mi riguarda è molto marginale ma anche sul concetto di situazione di lavoro in situazione c'è da fare qualche premessa qualche precisazione perché ovviamente noi tutti siamo un po' cresciuti con questa chiamiamola dicotomia queste due macro aree che sono il lavoro analitico e il lavoro situazionale io credo che anche il lavoro situazionale sia passibile di approfondimento perché non cioè il lavoro analitico ha delle caratteristiche ben precise ma il lavoro situazionale non sempre secondo me lo si lo si come dire lo si struttura in maniera efficace allora io parto da questo presupposto il lavoro situazionale può essere costruito in maniera bottom up o top down cosa voglio dire se ad esempio partiamo dal bottom up cioè dal basso verso l'alto se vuoi passare alla successiva slide c'è una definizione io ho preso ecco io ho preso adesso la definizione che ne da diciamo il la definizione classica del lavoro dell'approccio bottom up cioè si parte da una situazione iniziale conoscendo già l'obiettivo finale ovviamente e si induce nel nostro caso induciamo i nostri giocatori a costruire un percorso sequenziale cioè quindi step by step chiaramente questi passaggi hanno un ancoraggio cioè si ricerca un ancoraggio tra i vari passaggi fino poi ad arrivare all'app cioè quindi all'obiettivo finale che è diciamo il nostro la nostra situazione chiamiamola pronta per per essere come dire riconosciuta in campo questo questo concetto questo approccio di per sé non è sbagliato anzi cioè si come dire in pratica si si può riassumere con tutte quelle esercitazioni che in qualche maniera ricreano una situazione una situazione di gioco ben precisa che è quella sulla quale noi vogliamo lavorare e e poi con questo ci si ci si prefigge di fare in modo che i giocatori la riconoscano per poi riportarla diciamo nella realtà del gioco questo questo approccio comunque queste esercitazioni che ripeto hanno una loro utilità però in qualche maniera io le cerco di non limitarle ma io so che quando faccio un'esercitazione del genere questa situazione comunque avrà sempre un carattere artificioso faccio un esempio se io sto cercando di lavorare come dicevo prima in zona 3 noi cerchiamo sempre io cerco sempre di lavorare su un concetto che è quello del cercare di andare dentro e attaccare le spalle della linea degli avversari attraverso degli scambi veloci o delle giocate con il terzo uomo e ecco se vuoi stoppare un secondo prima di andare col video ma se io creo una partita o una partita a tema o un'esercitazione dove dico ai giocatori si può andare dentro soltanto con la giocata al terzo uomo io sì sto lavorando su quella situazione specifica ma in realtà sto dando già ai giocatori una soluzione o comunque sto dicendo sto dando una regola che esclude tutte le altre possibilità cosa voglio dire che è vero che l'utilità o comunque l'obiettivo è il mio è quello di dire di far capire ai ragazzi che andare dentro attaccare la linea avversaria con il terzo uomo è un espediente è una soluzione importante ma in quel momento se io do quella restrizione sto dicendo ai giocatori sto in qualche maniera limitando tutte le altre opzioni ai giocatori che invece magari quando invece magari in un momento particolare forse era meglio andare dentro nell'uno contro uno allora questo tipo di situazione in qualche maniera focalizza molto l'accento l'attenzione su una su una situazione che io voglio o comunque un obiettivo che voglio raggiungere ma in realtà come dire ha una qualche artificiosità che secondo me ne limita un po' l'efficacia un altro esempio potrebbe essere se voglio lavorare su l'attacco diciamo andare dentro diciamo per zone esterne con un cross mi invento magari la partita a tema dove si può fare gol soltanto da cross ma in quel momento lo sto rendendo una situazione non reale perché sto dicendo alla mia squadra in possesso che per fare gol deve passare per i laterali ma magari invece si crea una situazione in cui il mio giocatore deve andare dentro dritto per dritto e non lo fa perché io gli ho detto che il gol è valido da cross dall'altra parte la squadra che difende non avrà lo stesso tipo di atteggiamento che può avere nella realtà del gioco perché sa che dovrà aspettarsi degli avversari che vanno dentro per via esterne quindi questo tipo di chiamiamolo espediente metodologico ha un'importanza ma dobbiamo capire dobbiamo sapere che non anche questa è una situazione ma non è una situazione completamente reale un esempio è questa clip che è un'esercitazione che io faccio soprattutto quando come in questo caso se la lascio un attimino ferma così prima spiego un secondo cosa succede ok se stoppili a volte noi ci alleniamo su un campo più piccolo che è questo che vedete e io chiaramente in questa situazione non voglio per così dire impoverire la mia proposta ma la voglio adattare a una situazione di forza maggiore che è avere un campo più piccolo e più stretto in questo caso riesco comunque a lavorare su un concetto che a me è molto caro che è in costruzione cioè quando io quando noi costruiamo in zona 1 io voglio comunque stimolo i miei giocatori i centrali in questo in questo caso i miei difensori centrali a cercare subito di trovare delle soluzioni verticali verticali cioè quindi giocate che vadano subito a cercare la parte appunto la verticalità dentro al campo cioè voglio che evitino di giocare la palla esterna sul terzino perché a mio parere quella giocata è uno dei primi chiamiamoli i cosiddetti trigger che danno la possibilità agli avversari di venire subito in pressione quindi la palla classica palla giocata tra difensore centrale e terzino è secondo me una delle chiavi più chiamiamole direttura più semplici per la squadra avversaria e per venirti a pressare e quindi chiuderti tutte le varie possibilità io dico sempre ai ragazzi più state dentro al campo più lo so che è più difficile dico ma buttatevi nel fuoco cioè state dentro al campo che lì sì che ci sono le vere sorprese lì ci sono i bei regali nel senso che più sono bravi a giocare da posizioni interne al campo più ci sono possibilità più si riesce a tagliare fuori delle linee di pressione avversari questa esercitazione che adesso poi facciamo magari scorrere ci sono i due centrali che ricevono palla dal portiere e che non hanno cioè qui in questa esercitazione non ci sono i terzini quindi la struttura è due centrali due centrocampisti o tre a seconda dei numeri è un riferimento un po' più avanzato i centrali in questo caso in questa esercitazione hanno come opzione obbligatoria quella di giocare dentro al campo questa è una situazione che io ritengo molto utile perché perché ovviamente il centrale intanto la prima ricezione che fa la fa dentro al campo sapendo che comunque soluzioni esterne non ne ha ed è una delle cose che io chiedo cioè al centrale ricevi palla dal portiere non aprire subito il piattone verso l'esterno ed è una cosa che tanti centrali fanno perché ritengono che giocare esterna la palla esterna sia una sorta di salvagente contro la pressione degli avversari ma in questo modo in realtà si tolgono un problema ma lo creano poi al terzino allora con questo espediente diciamo metodologico io forzo i due centrali a giocare dentro al campo e in questa piccola clip quando poi magari appunto riusciremo a vederla se mai riusciremo a vederla in maniera più fluida si questo concetto viene viene molto è molto in evidenza però questa è una situazione secondo me è la classica esercitazione a cui facevo riferimento prima cioè bottom up nel senso io stresso molto quella situazione ma anche questa non è una situazione reale cioè la situazione reale è i miei due centrali che con la possibilità di giocare ai terzini perché magari ci può essere una situazione che è talmente come dire evidente che la giocata al terzino possa essere la soluzione giusta anche se in linea di principio diciamo non si richiede quindi questo è un esempio di situazione di esercitazione che io chiamo bottom up che però ha una sua utilità invece passando all'altro concetto che è diciamo quello opposto quindi il top down se vuoi passare alla slide successiva c'è anche la definizione anche qui quella diciamo classica che poi vado ad approfondire cioè nel concetto nell'approccio top down l'informazione che specifica l'azione è direttamente disponibile per chi agisce nel proprio ambiente allora questa è diciamo la definizione classica ma sostanzialmente cosa cosa significa ed è fondamentalmente il tipo di approccio che io uso per la stragrande maggioranza del tempo del mio allenamento è la possibilità di creare una struttura di esercitazione nella quale la realtà è completa diciamo dei suoi elementi che non significa lavorare sempre 11 contro 11 perché se no spesso non abbiamo neanche la possibilità di farlo ma è la possibilità di creare una situazione nella quale diciamo l'evento comunque l'obiettivo che io voglio raggiungere non si verifichi in maniera forzata cioè non sono io a farlo accadere con degli escamotage diciamo metodologici con delle regole con delle limitazioni delle restrizioni ma la mia diciamo bravura come allenatore se vogliamo cioè la bravura dell'allenatore non io in generale è quella di lasciare che il gioco si sviluppi in maniera naturale nel momento in cui la situazione sulla quale io voglio porre l'accento si verifica io devo essere talmente bravo da dire da correggerla o rinforzarla nel momento in cui accade che è diverso dal crearla in maniera artificiosa questo ad esempio è un altro video ecco questo è un video invece appunto di una seduta di allenamento sono un minuto di video se prima di farlo partire volevo spiegare un attimino di cosa si tratta in pratica ecco questa è un'esercitazione che utilizzo per il concetto di riaggressione quando io parlo di riaggressione intendo la possibilità o anzi diciamo l'idea che nel momento in cui stiamo preparando l'attacco o lo stiamo finalizzando possiamo essere bravi andare a fare gol e ci abbracciamo oppure la possibilità che la palla venga persa cioè che gli avversari conquistino palla cioè ci impediscano di finalizzare e la richiesta che io faccio ai ragazzi che è uno dei principi di gioco nostri è quella di riaggredire immediatamente sulla perdita del possesso allora io ho due strade per lavorare su questo concetto una è quella che dicevo prima c'è un'esercitazione cosiddetta bottom up ossia potrei strutturare un'esercitazione dove mi invento un come dire un escamotage per cui la squadra diciamo la mia squadra che è in possesso diciamo in maniera artificiosa perde palla e su quella perdita palla i miei giocatori che stavano attaccando devono sapere che vanno a riaggredire ok e si può anche fare però cosa succede si può fare ma intanto succede che l'obiettivo è chiamiamolo chiaro conosciuto e lo sto riproducendo in maniera fittizia quindi i miei giocatori in attacco sanno che per ricreare quella situazione stanno non stanno giocando come dire veramente stanno stanno creando i presupposti perché si verifichi una situazione di quel tipo gli avversari cioè quelli che i giocatori che in quel momento stanno facendo la fase difensiva sanno che stanno aspettando che succeda quello per reagire alla situazione e tutto diventa finto cioè tutto diventa prevedibile tutto diventa artificiale allora cosa faccio? Faccio una cosa che è molto più semplice che è molto più semplice cioè io come in questo caso nel video adesso è fermo e quindi lo facciamo stare un attimino fermo metto in una porta quella da difendere diciamo il portiere e più quattro diciamo una linea da quattro più due centrocampisti possono essere tre possono essere una linea da quattro e quattro centrocampisti questo non fa differenza io lo faccio in base ai numeri che ho in quel momento disponibili e poi una squadra che attacca dove in questo caso abbiamo tre attaccanti tre centrocampisti e due terzini che attaccano in ampiezza e poi a metà campo come vedete diciamo nel fotogramma poi magari vediamo di farlo scorrere c'è una porta vuota ok quindi l'esercitazione è questa la squadra che attacca i blu hanno l'obiettivo che è quello del gioco del calcio devono andare a far gol e lo devono fare in base a dei principi che i giocatori conoscono cioè il nostro modo di giocare non ci sono i due difensori centrali perché perché ovviamente gli avversari non hanno un reparto d'attacco e soprattutto in questa fase i due difensori centrali non sono coinvolti anche nella realtà perché comunque siamo quasi vicini all'area avversaria e cosa succede che se i giocatori bianchi c'è la squadra che sta difendendo conquista palla ha come obiettivo quello di fare gol nella porta vuota anche calciando una palla cioè da qualsiasi posizione loro riconquistino palla possono provare a calciare nella porta vuota ovviamente è un vantaggio perché non essendoci il portiere possono fare gol in qualsiasi momento i giocatori blu chiaramente devono impedirlo come l'unica possibilità che hanno è andare immediatamente a reaggredire il giocatore che ha conquistato palla per evitargli la possibilità che possa fare gol nella porta vuota quindi io non ho creato una restrizione ho dato una possibilità alla squadra difendente ed è un escamotage che non snatura il gioco ma dà la possibilità nel caso si verifichi quella situazione di adottare il comportamento più adatto non solo perché è importante questa secondo me strutturare un'esercitazione in questo modo perché mentre io pongo l'attenzione su questo aspetto che è quello della riaggressione automaticamente cioè comunque contemporaneamente mi rendo anche conto se diciamo i principi in fase di in fase di possesso in attacco sono rispettati perché non è che io in quel momento sto lavorando solo con un focus ma io comunque continuo a lavorare come allenatore anche su tutti gli altri aspetti che possono essere anche quelli legati alla squadra che sta difendendo e nel video per esempio si vede a un certo punto la squadra bianca che recupera palla e diciamo in quel recupero palla mette in atto dei comportamenti che sono giusti anche per la squadra che ha recuperato palla purtroppo torno a dire la possibilità di vedere il video in maniera pulita ci toglie un po' questo effetto però questo io volevo sottolineare che in questo tipo di struttura io pongo l'attenzione sul mio obiettivo ma dentro c'è tutto cioè c'è tutto quello che come allenatore mi permette di continuare a lavorare anche su concetti che fanno parte del modello di gioco non so se se mi sono come dire spiegato abbastanza bene se vogliamo anche fare delle domande mi senti Fabrizio sì sì come no certo ok allora sono arrivate due domande una di William ti chiede invece di dare dei limiti nelle scelte di gioco potrebbe essere più efficace dare libertà di scelta ma premiare la scelta che noi ricerchiamo in quella partita tema ad esempio se devo stimolare la squadra a crossare posso far sì che il gol che arriva da un cross vale dubbio anche questo come dire è uno scamotage che oddio tutto si può fare ma anche questo anche il premiare maggiormente una situazione piuttosto che un'altra in qualche maniera toglie un po' di come dire di naturalezza no perché è vero che io premio il gol a seconda come diceva il collega se io sto lavorando sull'attacco da una zona laterale da una fascia laterale premio di più il gol che nasce da quella situazione in qualche maniera sto influenzando i miei giocatori a ricercare quel tipo di situazione perché poi parlando poi soprattutto di ragazzi i ragazzi sono in questo senso comunque lo sappiamo sono molto competitivi anche nelle situazioni di gioco nelle partite allora l'idea magari di dire ok ho fatto un gol che vale doppio magari può portare a fare una scelta diciamo una scelta tattica di tipo tattico che non è poi magari coerente in quel momento no cioè la possibilità di dire ok faccio gol magari invece può faccio gol in maniera normale ti tiro da fuori ti tiro da fuori invece non lo faccio perché so che se lo faccio da cross ottengo qualche punto in più quindi io non lo farei ma non perché si può ripeto si può fare tutto però cercherei comunque cerco sempre di fare in modo che il tutto avvenga nella maniera più naturale possibile cos'è che faccio se voglio focalizzare sull'obiettivo o strutturo magari l'esercitazione con due squadre perché ripeto si può lavorare con numeri ridotti senza per questo impoverire la realtà del gioco per esempio chiaramente se voglio lavorare sulla possibilità di andare maggiormente al cross farò in modo magari ecco che i miei due terzini cioè la squadra che attacca in superiorità numerica talmente evidente che gli avversari sono costretti per natura proprio per la natura del gioco cercheranno di chiudere un pochino di più le zone centrali e magari la squadra avversaria che in quella fase di possesso ha più possibilità di andare al cross questo lo posso fare cioè comunque è qualcosa che io creo i presupposti per piuttosto che dare dei premi per o delle restrizioni per non fare qualche cosa e ma soprattutto farò una cosa nel momento in cui la situazione sulla quale io come dire non sto lavorando ma voglio che i ragazzi apprendano cioè quindi la possibilità di dire vado al cross ma intanto i ragazzi devono capire quando è utile andare al cross o perché cioè la squadra avversaria chiude tutti gli spazi centrali cosa che a noi succede spesso e allora i ragazzi devono capire che la soluzione è diversa allora lo faccio e puntualizzo in quel momento cioè pongo l'attenzione e rafforzo se è stata fatta la scelta giusta la rinforzo e se è stata fatta la scelta sbagliata lo sottolineo quindi il premio tra virgolette di cui parlava il collega non è tanto dare due gol cioè dare il doppio valore al gol segnato da cross ma da un punto di vista diciamo chiamiamolo così mio cioè dell'allenatore di quello che voglio ottenere dai ragazzi è se i presupposti dell'azione della situazione erano tali per cui andare al cross era la cosa giusta era la scelta giusta e viene fatto un gol io fermo il gioco rinforzo rinforzo in maniera positiva quella situazione lì cioè quindi non è un premio che viene banalmente ti do due punti il premio tra virgolette è l'approvazione da parte del mister che è un'approvazione non tra virgolette narcisistica per il ragazzo ma proprio per far capire che quella scelta era la scelta migliore la scelta più giusta o il contrario abbiamo diverse altre domande Tiziano vai ciao mister buongiorno volevo chiederti in una settimana tipo no avete per caso dei giorni in cui lavorate di più sul singolo e di più magari sull'aspetto del reparto della collaborazione o dell'intera squadra o avete fatto diciamo un mix allora poi ci arrivavamo perché faceva parte delle se vuoi se vuoi ti rispondo adesso se no poi nella parte successiva andando avanti grazie a te andando avanti c'è proprio la spiegazione anche sul resto della struttura diciamo della settimana per cui tornando a questo concetto io credo che maggiore è la possibilità di creare delle situazioni reali ma veramente reali nelle quali il calcio è fatto di situazioni che si succedono l'uno con l'altro ecco se poi volevo anche far vedere questa situazione qua quindi non ci dobbiamo preoccupare più di tanto secondo me di di far sì che una situazione venga fuori in maniera più evidente rispetto a un'altra perché il calcio comunque è è un insieme di situazioni che si come dire si seguono una con l'altra si susseguono ma comunque rientrano tutte in diciamo in macro categorie che sono piuttosto conosciute comunque ripeto la cosa importante è proprio questa cioè non creare delle situazioni che anche se noi pensiamo che siano situazione cioè il lavoro in situazione ma la situazione quando poi è costruita diciamo in maniera artificiosa cioè per farlo venire fuori in maniera evidente un obiettivo non è secondo me lo step finale per l'apprendimento diciamo dei ragazzi nell'interpretazione diciamo del gioco e nella sua genuinità nella sua realtà questa per esempio è invece quella che si vede adesso in maniera anche statica è invece un lavoro che faccio sulla costruzione in zona 1 cioè quindi sull'inizio azione dal portiere anche qui una volta conosciuti i concetti che i ragazzi hanno cioè i ragazzi appunto sui quali lavoriamo ovviamente fin dal primo giorno della stagione non ho poi l'esigenza e non sento l'esigenza a tutti i costi di creare per i ragazzi dei percorsi di chiamiamolo soluzione ok di uscita cioè i concetti che loro hanno sono quelli che dicevo prima ogni giocatore deve avere la capacità di smarcarsi nei tempi giusti e nello spazio giusto sapendo che il nostro concetto è diciamo la nostra idea il nostro principio è il più possibile se c'è l'opportunità giocare dentro al campo ogni giocata esterna cioè verso l'esterno è dettata semplicemente dall'assenza delle possibilità precedenti cioè quindi c'è una sorta di gerarchia chiamiamola così di scelte che non significa che le seconde non si possono fare ma io dico sempre ai ragazzi voi dovete immaginare che tra la nostra porta e la porta avversaria immaginate una strada se quella strada è vuota voi la percorrete dritta ovviamente quella strada non può essere vuota ci saranno degli ostacoli gli ostacoli sono gli avversari ma e a quel punto lì dobbiamo trovare delle soluzioni per superare quegli ostacoli ma paradossalmente se non ci sono ostacoli la scelta è andare dritti per dritti quindi in questo caso la costruzione in zona 1 anche qua sarà fatta come diciamo da un punto di vista dell'esercitazione con una contrapposizione tra la squadra che costruisce contro chiaramente una squadra che si oppone ecco in questo caso per esempio cosa succede che il giocatore che era in possesso palla ha dovuto giocare una palla esterna ma il giocatore che ha ricevuto esternamente cosa ha fatto ha immediatamente cercato di riportare la palla dentro per il concetto che dicevo prima se lo vogliamo rivedere magari anche purtroppo fotogramma per fotogramma però questa è quella di prima o quella dopo è quella stessa è la stessa comunque si vede il centrale che riceve palla non ha gli vengono chiusi la giocata centrale lui gioca esterno ma il giocatore che riceve esterno fa una giocata che mi apre un altro un altro mondo ci hanno sempre insegnato mai giocare palla dentro al campo orizzontale di fronte all'area di rigore questo è uno di quei concetti chiamiamoli universali con i quali tutti siamo cresciuti no? cioè nel senso è un po' come dire se il campo bagnato metti i tacchetti a 6 se il campo è asciutto metti i tacchetti a 13 quando giocavo io 150 anni fa ma è sempre così? io non credo cioè nel senso che non è tanto importante il tipo di passaggio se quel passaggio va diciamo a raggiungere un compagno che si è smarcato in una posizione di campo giusta e quindi anche il passaggio diciamo a rischio chiamiamolo così cioè io lo voglio dal giocatore intanto perché io voglio giustamente la Roma non io ma la Roma vuole creare giocatori che abbiano coraggio in fase di possesso palla coraggio significa non cominciare a dribblare diciamo dentro la proprietà di rigore perché quello no ma la capacità di venire fuori da una pressione avversaria attraverso la capacità di trasmissione della palla tra compagni senza come dire subire anche l'aspetto psicologico di una pressione degli avversari ma in maniera diciamo chiamiamo diciamo serena però lo posso fare soltanto se chiaramente anche questo è un lavoro che faccio giornalmente sulla testa diciamo dei giocatori testa non soltanto nelle parole ma anche nella pratica questa ecco volevo puntualizzare questa è un'altra piccola porzione questa clip questa seconda clip della stessa esercitazione dove e ripeto mi dispiace solo che il video non sia fluido dove invece cosa succede succede che gli avversari cioè i bianchi riescono a conquistare palla al limite dell'area nostra al limite dell'area dei blu e io questa è una situazione che io devo prevedere cioè anche lì io non posso e non lo farò mai io non farò mai un'esercitazione di possesso o comunque lavoro senza avversari perché nel momento in cui lo faccio senza avversari ma questo ormai non credo di dire una cosa dico un'ovvietà perché io credo che tutti o molti delle persone dei colleghi che sono in questo momento collegati forse cioè credo che siano d'accordo con me cioè quanto più tolgo diciamo degli ostacoli o comunque tolgo dei problemi ai giocatori tanto più ecco tanto più li sto allontanando dalla realtà in questa situazione che si sviluppa poi a un certo punto un giocatore che sbaglia una ricezione invece di ricevere in avanti riceve all'indietro e succede che i bianchi riconquistano palla in quel momento è quello il concetto che dicevo prima io sto lavorando sulla costruzione ma nel momento in cui i giocatori blu perdono palla in quel momento io sto lavorando sulla fase difensiva e sulla transizione perché poi i giocatori blu reagiscono alla perdita di possesso in quella zona di campo e reagiscono nella maniera corretta perché vanno a riaggredire subito il portatore palla avversario riconquistano palla e fanno una transizione che porta poi l'ultimo giocatore diciamo a raggiungere l'obiettivo che era quella riga gialla i cinesini quindi è un po' il concetto di prima io sto lavorando sulla costruzione e il mio obiettivo è dare diciamo o verificare che i giocatori stiano mettendo in pratica i principi in fase di costruzione in zona 1 ma io prevedo e devo dare e sono obbligato non vorrei dire moralmente ma se voglio far bene il mio lavoro devo far capire ai giocatori che dentro quel modo di giocare c'è anche la possibilità che la situazione non vada a buon fine cioè che gli avversari ti recuperino palla e quindi loro hanno gli strumenti per reagire a questo perché se no li lascio tra virgolette li lascerei indifesi se io lavorassi ok guarda come siamo belli come siamo bene se faccio una necessitazione dove gli avversari sono semi attivi con le cose che ogni tanto si fanno ma io non le faccio ma cioè no gli avversari sono attivi e te la vogliono venire a prendere e se te la prendono cosa fai? reagisci nel modo giusto e se poi tu reagisci nel modo giusto hai il premio il tuo premio e cos'è? quello che poi riesci a ottenere l'obiettivo che è quello poi nel nostro caso di portare palla metà campo quindi questo è sempre un po' sì ti fermo un secondo c'è una domanda di Fabio esercitazione a spazi ridotti li utilizzi? se sì che opinioni hai a riguardo? oppure li consideri poco reali in quanto non rispettano tempi e spazi della partita? no allora ovviamente le utilizzo però anche lì devo capire devo capire la cioè devo avere in mente sapere su cosa sto lavorando cioè lavori in spazi ridotti li utilizzo e li utilizzo perché mi mancano gli spazi reali perché per ragioni logistiche come ad esempio nell'esempio di prima no? di quella dove lavoriamo sul campo più piccolo dove è un campo stretto io a quel punto trovo una forma di allenamento che mi permetta di specificare diciamo di dare comunque un'impronta legata al modello di gioco senza per questo impoverirla perché mi manca lo spazio oppure al contrario ho meno giocatori e a quel punto lì poi vabbè ovviamente c'è anche tutta una parte di lavoro su diciamo per reparti perché chiaramente se voglio prima fare un lavoro sulla linea difensiva è normale che ci sia una parte anche di lavoro di reparto perché c'è e poi c'è tutta una serie di lavori in spazi ridotti che poi magari anche lì accenno dopo che sono legati quelli che poi diciamo si chiamano il professor Capana li chiama propedeutici cioè se io ad esempio il lavoro che o comunque il principio di gioco per il quale io voglio che i miei giocatori più possibile giochino dentro al campo lo posso mettere diciamo sia in una situazione realistica come quella che abbiamo visto ma creare anche un'esercitazione dove non c'è lo spazio o i numeri reali ma comunque in quel caso l'ego l'esercitazione a un'idea faccio un esempio faccio un'esercitazione che in uno spazio esagonale con dentro questo spazio abbastanza grande dove all'esterno per ogni lato metto dei giocatori diciamo alternati nelle due squadre diverse dentro allo spazio altri giocatori sempre di due squadre diverse e dentro a questo spazio un rombo comunque uno spazio dove giocano uno o due giocatori a seconda dei numeri che sono sempre con chi è in possesso l'obiettivo è quello per la squadra in possesso di creare o comunque di provare sempre a giocare con i giocatori jolly dentro questo spazio centrale cioè sfruttando anche i giocatori all'esterno perché chiaramente per creare le condizioni per giocare dentro devo mantenere il possesso però l'idea è proviamo sempre a giocare la palla dentro al campo quindi quella è una struttura chiamiamola non reale ma dove non c'è dentro un'idea diciamo di principio precisa per cui si le utilizza oppure per esempio utilizziamo molto gli spazi stretti per tutto quello che riguarda l'aspetto tecnico e quella è un'altra delle cose che forse proprio nel punto successivo quando parlo degli strumenti tecnici vediamo anche questo aspetto qua della metodologia ti faccio un'ultima domanda di Riccardo poi procediamo tu hai detto che insomma la Roma cerca un calcio molto propositivo e offensivo e dovendo far coesistere anche molti giocatori offensivi quali sono gli input dati a questi giocatori per cercare di mantenere un equilibrio di squadra nella fase di non possesso sì allora beh intanto il primo input più importante è proprio quello della riaggressione perché dico fortunatamente perché ho il piacere e il privilegio di allenare dei ragazzi che hanno sia quelli dell'anno scorso che quest'anno un'ottima qualità e che soprattutto diciamo qualità offensive nei giocatori appunto più nei ruoli più diciamo più avanzati quello che è la prima la prima richiesta è proprio quella di essere bravi a riaggredire in avanti proprio per evitare a questi giocatori non il sacrificio perché il sacrificio è una cosa importante però sanno bene che se loro riaggrediscono in avanti non appena perso la palla riusciremo sempre a mantenere diciamo il baricentro della squadra più diciamo più avanzato e di conseguenza loro stessi poi ne hanno ne hanno giovamento diciamo che quindi questa è la la chiave poi in fase non possesso chiaramente anche la quell'aspetto che dicevo prima cioè sempre la possibilità di indirizzare il gioco degli avversari in zone esterne ci dà la possibilità di essere chiamiamo diciamo più organizzati e di avere un tempo di chiamiamo di difesa maggiore rispetto alla possibilità di fare andare dentro gli avversari per vie centrali quindi e poi uno degli aspetti secondo me fondamentali è quello di accettare anche la possibilità che gli avversari ti ti attacchino diciamo la linea difensiva alle spalle con diciamo con attacchi diretti lanci lunghi quindi spesso i nostri due difensori centrali si possono trovare in situazioni di parità numerica e lo accettiamo perché riteniamo che questo sia anche un aspetto importante della loro crescita cioè quindi non soltanto lavorare con il supporto dei compagni di reparto ma anche trovarsi in situazioni chiamiamole estreme come possono essere un due contro due su palla su palla lunga quindi l'equilibrio lo troviamo abbastanza non ci si riesce sempre perché sia l'anno scorso che quest'anno abbiamo dei numeri importanti diciamo per quanto riguarda il numero dei gol segnati potremmo avere qualche numero diciamo più basso per quanto riguarda i gol subiti però ripeto se e come credo sia giusto vogliamo avere questo tipo di diciamo di modello di gioco dobbiamo anche mettere in conto che questa è una delle chiamiamole delle debolezze se vogliamo usare questo termine però ripeto i nostri difensori sanno che devono anche trovarsi a gestire situazioni più complicate però fa parte del loro miglioramento ok concediamo concediamo magari Fabrizio che stiamo andando un po' lunghetti no no certo come no vai allora gli strumenti tecnici ecco anche qua come dicevamo c'è un aspetto di lavoro analitico quindi rispondo anche al collega che faceva mi aveva fatto la domanda la per quanto riguarda le tre categorie però ripeto parlo della mia ma so che anche per la 16 la 15 è così lo spazio diciamo il tempo dedicato nelle due ore di allenamento il tempo dedicato non prevede lavori di tipo analitico cioè sulla tecnica individuale per questo la Roma alla Roma c'è una sezione cosiddetta nel perfezionamento cioè c'è un programma che prevede la possibilità tre volte alla settimana quindi per tre giorni alla settimana prima o dopo la seduta di allenamento con uno o due ragazzi e che sono diciamo seguiti da uno o due tecnici che sono normalmente il vice quindi nel mio caso il mio collaboratore Maurizio Andreoli e il diciamo un allenatore che è Roberto Menichelli che coordina questo questo settore e per mezz'ora quindi la mezz'ora che precede l'allenamento o la mezz'ora che segue l'allenamento questi allenatori si dedicano alla cura diciamo così di uno o due giocatori per volta e dove si va a lavorare sul cosiddetti gap diciamo tecnici oppure sul perfezionamento di qualità già preesistenti è un lavoro secondo me molto importante che si è deciso di farlo fuori dal tempo d'allenamento per quanto mi riguarda io credo che così come penso che gli aspetti tattici di tattica individuale o collettiva vadano lavorati in situazione reale per quanto riguarda l'aspetto tecnico io assolutamente credo nella tecnica ma credo nel fatto che la tecnica sia uno strumento al servizio della della tattica individuale cioè al servizio della soluzione del problema calcistico e secondo me esistono degli strumenti per lavorare dentro l'allenamento per far sì che ci sia un miglioramento tecnico che possono essere assolutamente efficaci e a mio parere hanno un grado danno un grado di miglioramento tecnico molto più alto del lavoro fine a se no fine a se stesso del lavoro individuale in questo caso ho fatto un video appunto di una cosa che noi facciamo tutti i giorni tutti i giorni tant'è che i miei giocatori i miei ragazzi sanno che lo chiamano il pane quotidiano gli abbiamo detto gli abbiamo dato questo nome perché questo è sono dei piccoli mi viene da dire Torelli ma non sono Torelli perché per Torello si dà sempre un'accezione un po' del diciamo del cazzeggio se voglio usare questa parola che non è bella ma sono dei veri e propri piccoli possessini dei rondo come ci piace chiamarli che sono o 6 contro 2 o 5 contro 2 o 7 contro 3 questo dipende un po' dal numero di giocatori che ho a disposizione noi tutti i giorni all'inizio all'inizio allenamento facciamo dividiamo in due gruppi e facciamo in uno spazio ristretto questi piccoli rondos e lo facciamo un lavoro che facciamo per un quarto d'ora tutti i giorni che vanno un quarto d'ora a ritmo intenso quindi la palla va fuori la palla torna dentro e si gioca a due tocchi perché perché il primo tocco il primo tocco deve essere funzionale al secondo cioè se io anche qua se io do solo un tocco sto togliendo qualcosa perché il primo anzi la possibilità di avere un tocco in più non obbligatorio ma dà la possibilità anche di scegliere un attimino il tipo di giocata più utile però in spazi molto ristretti i ragazzi toccano la palla in una maniera con una frequenza altissima sempre sotto sotto la pressione degli avversari che sono i due e mezzo che cercano di chiaramente intercettare ma non solo cioè qui in questo tipo di torelli noi lo strutturiamo in modo tale che non basta soltanto per i due e mezzo toccare la palla ma devono averne il possesso e finché non hanno un possesso più chiamiamolo concreto quelli fuori possono ancora riaggredire e riprendere palla e ricominciare a farla girare quindi c'è anche già dentro un minimo di come dire principio chiamiamolo così di gioco e questo è un lavoro che noi facciamo tutti i giorni e io devo dire che sono sincero è una delle cose che ha dato più che ha ha migliorato di più i ragazzi proprio dal punto di vista tecnico e anche la sicurezza che hanno nella fase di possesso questo è un altro esempio di una cosa che secondo me è sempre stata un po' gestita in maniera come dire un po' quando è il momento un po' del cazzeggio cioè il calcio tennis per me il calcio tennis è uno strumento di miglioramento tecnico fantastico in questo caso ho messo questa clip perché noi facciamo spesso questo calcio tennis che ripeto poi magari quando qualcuno vorrà avere il video lo manderò e si vede in maniera più chiara è un calcio tennis che anche noi utilizziamo anche col prof come lavoro di condizione perché ci sono due squadre che si affrontano ma due diciamo quattro per esempio giocano quattro contro quattro ma ci sono altri quattro contro quattro fuori in attesa e si alternano continuamente dentro e fuori cioè finché la palla è viva finché il gioco va avanti una squadra quando ha tirato la palla di là nell'altro campo deve sprintare fuori e i compagni che erano fuori scattano dentro chiaramente qua si vede poco ma poi se si vede il video bene si può capire a sto punto c'è competizione c'è anche un lavoro diciamo di sprint interessante perché poi col prof si spiegherà magari con i gps si riesce anche a quantificare diciamo la qualità e la quantità di questo tipo di lavoro e i giocatori attraverso questo secondo me hanno un miglioramento tecnico importante io ripeto credo nel lavoro individualizzato al di fuori dell'ora di allenamento ma dentro il mio allenamento il lavoro tecnico cioè il miglioramento tecnico deve passare attraverso situazioni di questo tipo ecco questi esempi sono esempi di situazioni di perfezionamento in questo caso un giocatore addirittura con due tecnici a disposizione che è un destro naturale e diciamo si andava a lavorare sul miglioramento del piede debole quindi in questo momento lui sta facendo delle esercitazioni che vanno a sollecitare l'uso del piede debole questo è un esempio poi ce n'è un altro perché il lavoro di perfezionamento si può fare sia con un giocatore ma anche con piccoli gruppi questo è un altro esempio quindi qua ci sono 4-5 giocatori che hanno fatto un lavoro fuori dall'orario di allenamento dove un pochino più in situazione diciamo così ma dove c'è più tempo per diciamo in questo caso il mio collaboratore di lavorare magari proprio su aspetti tecnici individuali che più tempo di quanto non si possa fare invece nell'orario di allenamento che è gestito come abbiamo visto ed è strutturato in maniera in maniera diversa quindi qui ovviamente quindi l'aspetto tecnico è importante ma gestito in questa maniera ecco le qualità cognitive e io non l'ho messo ma aggiungo anche diciamo caratteristiche emozionali e caratteriali cioè anche qua si va a lavorare o comunque a stimolare perché alcune di queste caratteristiche sono allenabili faccio un esempio la visione di gioco è una qualità allenabile ovviamente attraverso i lavori di cui si parlava prima la comunicazione è una qualità allenabile la reazione all'errore è una qualità allenabile ma tutte le altre diciamo la creatività anche questa se vogliamo può essere allenabile ma agonismo disciplina coraggio sacrificio insomma tanti aspetti non sono allenabili ma sono c'è la possibilità di stimolarli chiaramente attraverso sempre l'utilizzo dello strumento che è diciamo la realtà del gioco la comunicazione poi la vediamo un attimino dopo in maniera più concreta però questi sono tutti aspetti tutte aree del diciamo di miglioramento alle quali la società giustamente dà un grande un grande peso gli strumenti di dati cioè qui volevo un attimino soffermarmi se vai avanti li vediamo in maniera un pochino più dettagliata ecco ecco qui perché oltre diciamo a tutto il lavoro che si può fare sul campo la società ci dà fortunatamente la possibilità di usufruire di strumenti dai didattici importanti ovviamente e noi giustamente li utilizziamo cercando di sfruttarli al meglio come attraverso ad esempio una riunione video post partita con cadenza settimanale cioè tutte le settimane noi fortunatamente abbiamo la possibilità di avere il video della nostra partita e anche degli allenamenti perché tutti quei piccoli frammenti di video che avete visto degli allenamenti sono parte del video completo di ogni allenamento che viene fatto o attraverso una videocamera diciamo utilizzata da da un collaboratore o addirittura adesso abbiamo anche la fortuna di avere una videocamera diciamo che automaticamente si sposta si chiama Spideo diciamo il sistema comunque si sposta e inquadra tutto tutto il campo durante l'allenamento e da lì si ha la possibilità di estrapolare dei momenti quindi questi momenti vengono poi riproposti alla squadra principalmente si fanno facciamo le clip della partita giocata la domenica precedente e insieme ai ragazzi andiamo a analizzare la prestazione individuale attraverso sempre il rafforzare chiaramente i concetti positivi o a correggere le cose diciamo che sono da correggere oltre a questo facciamo anche delle riunioni video individuali insieme allo staff io con il mio collaboratore soprattutto Maurizio facciamo spesso delle riunioni individuali prendiamo diciamo un ragazzo e andiamo con lui a analizzare delle par degli aspetti della sua prestazione che ovviamente o deve migliorare o anche qua per rinforzare molto la diciamo gli aspetti positivi e io credo molto in questo cioè che vale molto di più secondo me un rinforzo positivo con il ragazzo piuttosto che puntare sempre il dito sul suo errore e soprattutto fare sempre in modo che gli aspetti negativi non siano mai prevalenti perché si corre il rischio a mio parere di togliere poi quell'autostima al ragazzo che invece è quello che noi vogliamo che lui maturi poi ecco ho fatto una precisazione che non si fanno analisi degli avversari almeno fino all'under 18 cioè nel senso io ho l'under 18 fino all'under 17 noi non facciamo analisi degli avversari a meno che non siano tornei o fasi finali qui perché perché nei tornei nelle fasi finali ovviamente sono competizioni dove a quel punto partecipi perché vuoi arrivare in fondo ma tutta la fase diciamo che precede questo quindi il campionato noi non andiamo a dare informazioni ai ragazzi sulle caratteristiche degli avversari perché è un altro concetto diciamo che fa parte della filosofia della Roma quella di fare in modo che i ragazzi dentro la partita trovino come dire stimolino anche la loro capacità di leggere le caratteristiche della squadra avversaria cioè o dell'avversario del 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 proprio avversario diretto ma anche proprio a livello collettivo cioè capire se una squadra ti viene a pressare alta ti viene a pressare ti aspetta ti chiude determinate possibilità di gioco e quindi questo è uno strumento anche di miglioramento per i ragazzi perché si abituano a essere chiamiamoli studiosi dell'avversario nella realtà nel momento in cui affrontano l'avversario e un'altra delle cose che facciamo spesso è sempre o individualmente o a gruppi o anche tutta la squadra noi diamo anche la possibilità di ai ragazzi di analizzare video o parti diciamo clip di situazioni di altre squadre di alto livello in modo tale che poi ci sia anche un come dire un principio di emulazione in modo tale che i ragazzi vadano a riconoscere magari dentro una partita di un'altra squadra di un alto livello un principio di gioco che loro stessi hanno vissuto e questo è fondamentale perché comunque c'è una sorta di identificazione e stimola i ragazzi a dire ok questa cosa qua che stiamo provando a fare cioè che siamo riusciti a fare l'abbiamo ritrovata in un'altra partita in un altro contesto e quindi questo è un fa parte anche questo secondo me di un aspetto che serve a migliorare il ragazzo ti fermo un attimo così prendi anche un pochino di fiato bevi un boccio d'acqua se ce l'hai portata di mano e volevo dire allora siamo già quasi alle due ore addirittura ci siamo sentiti col prof e quindi pensavamo di rimandare diciamo così la parte più fisica di identificazione del talento insomma con tante altre cose interessanti magari in una seconda puntata quindi adesso finiamo con te lasciamo spazio alle domande poi faremo una seconda fase con il prof c'è una domanda sulla parte video ti chiede Riccardo per fare l'analisi usate osservare il video in sé per sé stoppando e spiegando errori o usate un programma di analisi specifico allora noi abbiamo un altro degli strumenti che ci mette a disposizione la società è un software sul quale carichiamo le partite e su questo software possiamo fare direttamente il tag delle situazioni che ci interessa diciamo evidenziare e sono diciamo il funzionamento è molto simile a software che sono diciamo diffusi quindi dove si evidenzia la situazione di gioco il principio la fase di gioco e anche poi diciamo si va a taggare il protagonista se vogliamo quindi sì non facciamo vedere il video intero ma facciamo vedere in quella situazione facciamo vedere delle clip già ben definite che possono essere clip positive clip negative clip individuali o clip diciamo legate a una situazione di gioco che riguarda tutta la squadra quindi abbiamo questa possibilità in alternativa io ringrazio voglio voglio non so se qualcuno non lo conosce faccio un po' di pubblicità un piccolo programma che si chiama Kinovea che io uso da dieci anni che permette di caricare dei video e tagliarle fare diciamo dei tagli quindi anche questo è uno strumento che io magari uso in alternativa anche a questo software che mi mette a disposizione la società ecco la comunicazione sì ok quindi questo è un aspetto importante diciamo l'usare in questo caso la comunicazione si riferisce al fatto che all'interno della S Roma tutti i principi di gioco tutti le diciamo gli aspetti del gioco hanno una denominazione precisa che i ragazzi utilizzano in modo tale da poter riconoscere le situazioni in maniera univoca faccio un esempio siccome come immagino molti possono immaginare alla Roma ci sono anche diversi ragazzi che arrivano da realtà estere e chiaramente hanno una difficoltà soprattutto all'inizio nel riconoscere chiaramente il significato della lingua uno degli aiuti che si può dare faccio un esempio è il famoso palla coperta o palla scoperta per uno straniero può ingenerare qualche problema allora da noi il concetto si definisce palla coperta o palla libera perché chiaramente i due termini sono più chiaramente comprensibili però ad esempio ogni ragazzo dell'AS Roma sa esattamente cosa significa zona 1 o zona 3 cioè se viene ad allenarsi con me un ragazzo dall'under 16 e gli dico che in zona 3 ci sono si gioca a due tocchi faccio un esempio lui non è che mi deve chiedere mister cos'è la zona 3 oppure anche le transizioni che io adesso per comodità ho chiamato transizione negativa o positiva da noi si definiscono in maniera diversa la transizione positiva è definita lettura dopo palla riconquistata o la transizione negativa è una lettura o un movimento dopo palla persa il rincorre quando chiaramente perdo palla e devo rincorrere un avversario che mi ha superato io chiaramente lo rincorro da una posizione diciamo di partenza più alta quindi verso la mia porta da noi si chiama pressing inverso cioè quindi è vero che poi è la stessa cosa che a me mi dice oh se perdi palla devi rincorrere giustamente però per dare come dire anche una chiave di comunicazione univoca per i ragazzi ci sono delle definizioni che tutti i ragazzi conoscono e questo secondo me è un altro aspetto importante perché aiutano aiuta il ragazzo a passare da una fase all'altra diciamo della sua del suo sviluppo della sua crescita conoscendo già di cosa si va poi a a parlare quindi senza grossi problemi da questo punto di vista e direi che come hai detto tu io pensavo di essere stato un'ora invece sono già due ore quindi ti ringrazio e ringrazio per l'attenzione tutti e ripeto siccome a me piace mi è sempre piaciuto condividere e parlare di calcio invito poi magari chi vuole anzi invito te Alessandro se vuoi dare poi magari la mia mail io assolutamente tutto quello di cui abbiamo parlato anche magari se qualcuno aveva qualche domanda e non siamo riusciti ad approfondire ben felice anche per magari il discorso dei video perché perché ovviamente ha più senso il tutto legato all'aspetto visivo certo allora io ringrazio padrizio veramente tantissimo di questo viaggio di due ore all'interno della metodologia della Roma è stato sicuramente molto interessante anche se c'è stato qualche problema di video ma allora io anzitutto è andata la live su youtube quindi non escludo che su youtube i video si vedano bene anche perché io sinceramente li vedevo normalmente quindi non escludo che sul canale auroradesi settore giovanile dopo proviamo a dare un occhio i video si vedano non dico la perfezione ma bene quindi questo potrebbe già essere un passo niente io ti ringrazio veramente di nuovo vediamo di trovare il canale eventualmente per mandare le slide o i video aspetta che arriva qualcosa in chat ringraziando e do appuntamento al prossimo appuntamento che è lunedì sera alle 20.45 con Angelo D'Ignazio che è il preparatore dei portieri dell'attività di base del Genoa che ci presenterà la sua metodologia la loro metodologia e niente ci vediamo alla prossima e grazie di nuovo grazie a voi buona serata grazie a voi 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 grazie a voi